Chi tra di noi non dice i soldi sono miei e ne faccio quello che voglio, non è così. Sappiate che il fisco ci sorveglia e se il caso ci sanziona. Ricordiamo che è possibile effettuare dei pagamenti fino a 1.999,99 euro per contanti dal 1 gennaio 2022. Sarà possibile soltanto per 999,99 euro. Anche fare un bonifico ad un parente, ad un figlio può essere pericoloso se non ben motivato e se non si dimostra la provenienza. I prelievi bancari per contanti è possibile farli fino ad un massimo di 1.000 euro in un giorno, per 10.000 euro in un mese se si è privati e per 5.000 euro in un mese se si è impresa. Mi domando se è il caso di porre tutte queste limitazioni in un momento di gravi difficoltà economiche. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato.